L'ex sindaco Melucci è colui il quale si vanta di aver seminato la rinascita. Guardate, l'ex plesso scolastico della Ungaretti al quartiere Paolo VI in via 4 novembre, uno stato di degrado assoluto, una struttura scolastica che è stata devastata, distrutta e abbandonata a se stessa. Scusa Melucci, ma da sindaco non hai mai pensato di intervenire per questa zona? È mai possibile che sia ridotta a una discarica a cielo aperto, a una meta di teppisti, di vandali? Per non parlare appunto proprio accanto alla scuola c'è una discarica immane di rifiuti di ogni tipo. Un amministratore valido, capace, fa sì che un'area che insiste sul territorio comunale da lui amministrato venga riqualificata, ma non dico riqualificata, ma almeno dare un minimo di dignità a quest'area. Qui sembra di essere in uno dei paesi del terzo mondo, caro Melucci. Se noi scattassimo una foto e la pubblicassimo su Facebook e dicessimo in quale parte del mondo c'è questo degrado, i cittadini avrebbero tante difficoltà a individuare la zona, potrebbero dire è in Sud America, è in Bangladesh e si trova in altri paesi sottosviluppati. No, purtroppo siamo a Taranto, nella città che tu, Rinaldo Melucci, hai amministrato per quattro anni e mezzo. Nella città in cui anche tu, Musillo, con i tuoi uomini, con i tuoi rappresentanti in giunta e nelle partecipate, hai amministrato. Melucci e Musillo hanno amministrato insieme Taranto e questi sono i risultati e i loro signori, Musillo e Melucci, hanno anche il coraggio di voler ambire alla carica di primo cittadino, Melucci per la seconda volta e Musillo per la prima. Ma scusate, se non siete stati all'altezza, non siete stati capaci di amministrare. Se avete ridotto Taranto ad una cloaca a cielo aperto, scusate, ma come fate a chiedere il consenso ai cittadini? Siete il nulla politico amministrativo, ma voi pensate che veramente i cittadini siano tonti? Ma voi pensate veramente che potete chiedere il consenso, il voto, come se nulla fosse, come se la gente non vedesse, non capisse? Vi ricordate dei cittadini? Per le tasse, per i tributi locali e per chiedere il voto. Dopodiché, come si suol dire, chi si è visto si è visto. Non merita questo Paolo VI, non merita la popolazione, i bambini soprattutto, non lo meritano i bambini di Paolo VI, perché i bambini di Paolo VI, i ragazzi hanno bisogno di istruzione, hanno bisogno di integrazione sociale. Da sindaco, con i miei assessori, provvederemo a ridisegnare, a dare civiltà e dignità a queste aree degradate. Lo faremo con la professoressa Giovanna Bonivento, che sarà assessore alla pubblica istruzione, alle risorse culturali e ai beni culturali, che la dottoressa Bonivento è una nota archeologa di fama nazionale. Lo faremo con un validissimo ingegnere, l'ingegnere Piero Campidoglio, che si occuperà di lavori pubblici, di urbanistica, di edilizia, anche edilizia pubblica, ovviamente. Ecco, questo è il discorso che vogliamo fare. Ridisegnare una città con progetti e con uomini. Uomini e donne giuste, al posto giusto. L'era Melucci, Melucci-Musillo, è finita. Da giugno riparte una nuova amministrazione, un'amministrazione che sarà accanto ai cittadini, soprattutto nelle periferie degradate, nelle periferie delle periferie.